Domenica 20 dicembre, San Vincenzo Romano. È il 355esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 11 al termine. Il sole sorge le 7.47 e tramonta le 16.30. La luna sorge le 12.04 e tramonta le 22.47. Muore a Venezia Giorgio Massari, il maggiore degli architetti veneziani del Settecento. Progettò, tra gli altri, Palazzo Grassi a San Samuele e l'ultimo piano di carezzonico lasciato incompiuto da Longhena. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso, in quota con qualche spazio di sereno all'inizio e poi soprattutto per nubi medio-alte, altrove anche per presenza di nubi basse e parziale riduzione della visibilità. Precipitazioni, fino al pomeriggio in genere assenti, di sera deboli fenomeni da locali a sparsi con probabilità in aumento fino a medio-bassa sulle zone montane, bassa su quelle pedemontane e nulla o molto bassa altrove. Temperature, contenute variazioni di carattere locale, tra cui spiccheranno discreti aumenti riguardo le minime specie in montagna.